L'apnea del sonno è comune quanto il diabete e l'asma nell'adulto. Circa un americano sui venti ha qualche forma di disturbo in respiratorio nel sonno. Circa il 90% di questi disturbi non ricevono una diagnosi. Per discutere le conseguenze negative dell'USA c'è il dottor Kim Mountstroll, professore di medicina presso la Casa Western Reserve University. Salve dottore, grazie per essere qui con noi. Grazie a lei. Dottore, cosa succede se non riuscite a riconoscere la trattata dell'apnea del sonno? Le persone hanno difficoltà a restare svegli di giorno, problemi di attenzione, irritabilità. Questo è perché il loro sonno non è rigenerante. Non riescono... hanno problemi di risvegli durante la notte, problemi di apnea durante la notte e di fatto la questione principale è che non si fanno un buon sonno notturno. Quindi la disattenzione e la sonnolenza che si verificano durante il giorno sono uno dei principali segni dell'apnea del sonno. Dottore, io certamente so che mi sento male dopo una sola notte di sonno scadente e sicuramente mi sento a rischio di incidenti. Puoi parlarmi ora degli effetti sul cuore? Beh, l'apnea durante il sonno significa svegliarsi per poter interrompere quelli stati di apnea. Le apnea producono anche cadute nel livello di ossigeno e aumenti di CO2. Stressano il cuore in tre modi. La prima cosa che è durante l'apnea stessa, la pressione del sangue può aumentare. In secondo luogo, possono aumentare pressione arteriosa e frequenza cardiaca. L'oposimia può causare il rilascio di ormoni dello stress. Questi portano ad un aumento della pressione arteriosa sia durante il sonno che il giorno successivo. E tutto questo contribuisce al sviluppo di ipertensioni, ictus e insufficienza cardiaca. Un trattamento efficace la fa diminuire? Sì, certo. Il segreto è interrompere l'apnea. Così facendo, si arresta il calo del livello di ossigeno e non è necessario svegliarsi per riprendere a respirare. E si dorme ininterrottamente. E il sistema cardiovascolare, nonché la fisiologia sonno-sveglia, ritornano alla normalità. Sol�ascolare, nonché la fisiologia sonno-sveglia. Grazie a tutti.